Allora, vi do il benvenuto a questo appuntamento live. Io sono Jessy e di Bresca mi occupo di marketing e comunicazione perché ancora non mi conoscesse. Oggi abbiamo un webinar un po' particolare perché abbiamo con noi il dottor Pietro Cipresso come ospite e come rappresentante e vicepresidente di New Way, che è un'associazione di divulgazione scientifica, il cui scopo sostanzialmente è parlare in scienza in un linguaggio semplice, comprensibile anche a chi in scienza non si occupa dal punto di vista del lavoro. Vi ringrazio personalmente per aver deciso appunto di prendere parte a questa nostra unità, a questo nostro webinar, si presenterà poi nel dettaglio. Abbiamo avuto il piacere di invitarlo perché vogliamo trattare il tema di una social musica e l'idea con l'appuntamento di oggi da un punto di vista differente dal solito, quindi non solo tecnico ma andare a analizzare quello che di fatto sta dietro di queste attacche. Cosa c'è dietro? C'è la psicologia amara e se vogliamo generare le tecniche di scienze. Quindi il dottor Cipresso ci darà un overview di quelle che sono sostanzialmente le leve psicologiche sfruttate dagli attacchi sociali, le emozioni che generano queste tipologie di attacco e una unità di qualche leve docente, la psicologia che è uno specifico che non ha avuto su queste tecniche sfruttate dai criminali informatici. A seguire Rodolfo, che è il nostro manager della ricerca e sviluppo di Bresda, andrà nello specifico e quindi ci dimostrerà in pratica come la teoria spiegata dal dottor Cipresso viene applicata, quindi cosa effettivamente, cosa in un senso pratico fa nei criminali informatici nel momento in cui vi è deciso di disegnare la luce. Staremo insieme più o meno un'oretta, nell'ultima parte ci saranno insomma i 15 minuti dedicati a domande e risposte e manteremo, va bene, quindi già l'ora che comunque rimanderemo la registrazione, quindi nel caso di cambiare qualcosa non c'è problema, di perlì che ora insomma raccenderemo a quanto detto. Non di un po' altro tempo direi che possiamo partire appunto con il dottor Cipresso. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi piace iniziare, ho sentito il suono di alcune campane, mi sembra di ottimo auspicio direi. Allora, perché in un seminario sul social engineering e human hacking chiamare un esperto di misurazione, di psicologia, di statistica e di psicologia legata alle nuove tecnologie, come spesso mi inquadrano? Allora, innanzitutto brevemente, perché in 20 minuti non vorrei fare grandi presentazioni, però mi introduco velocemente, perché non sono così narcisista da pensare che tutti mi conoscano, per cui faccio una brevissima introduzione. Io sono ricercatore di psicometria e esperto in psicologia e nuove tecnologie. Su questo campo ho 200 pubblicazioni scientifiche, una quindicina di libri, di cui anche uno in italiano, psicometria, legato un po' più ai temi della psicometria, che elementi di psicometria computazionale, dove vengono anche in parte apprenditi questi aspetti. Ma allora veniamo un po' a noi. Perché il social engineering riguarda uno psicologo? Beh, anzitutto la psicologia, parlando di social engineering e human hacking, è personalmente interpellata proprio perché c'è un coinvolgimento degli aspetti di comportamento umano su quello che viene fatto sia dai sistemi che dagli esseri umani stessi. Mi spiego. Cosa sono gli attacchi? Poi sicuramente l'ingegnero Don Fosacani ci spiegherà bene come avvengono gli attacchi, da dove arrivano e quali sono. Però un po' tutti siamo abituati a degli attacchi anche molto semplici, per esempio il classico phishing come sono le mail, o gli attacchi a virus, gli allegati delle mail ancora, tutti gli aspetti legati a quelle, diciamo, sono truffette che originano online, che originano via i nostri mezzi comunicativi elettronici come le mail, ma che sono tipicamente, scusate tolgo le cuffie ma almeno parlo con più libertà, ma che sono tipicamente fatti da esseri umani, o quantomeno a volte sono fatti alle macchine, da algoritmi, intelligenze artificiali, ma sono comunque programmati e pensati da esseri umani. Perché? Perché l'essere umano è attaccabile. Questo è il primo concetto sul quale vorrei spingere e che vorrei definire. Cioè come la mente umana è molto meno forte su certi aspetti di quelli che conosciamo, di quello che pensiamo. Ma non perché la mente umana abbia delle debolezze di per sé, ma semplicemente perché è così che funzioniamo. Ci sono degli inganni della mente che sono chiaramente identificabili in dei coscrutti, che anche nella psicologia si studiano molto bene, che sono per esempio le dispercezioni. Innanzitutto partiamo dalla cosa più semplice. Tutti abbiamo visto o sappiamo bene che il cervello spesso ci inganna. che è una cosa che può sembrare piccola, invece magari è grandissima, può sembrare due oggetti uguali, uno può sembrare più grande, l'altro più piccolo. Sono tutti quei trucchi della percezione mente che conosciamo bene. Ma come tutto questo, e non approfondirò perché ce ne sono già tanti, basta andare su internet e cercare i trucchi della mente o dispercezione, o percezione, insomma, ce ne sono tanti, ci sono tanti esempi. Ma come questo c'entra con noi e come questo va a impattare le tecnologie digitali? Bene, molto semplice. Questi attacchi avvengono mirando sulla nostra sfera, non solo percettiva, ma vanno molto più in profondità, vanno sulla sfera emotiva. Come vanno sulla sfera emotiva? In questo periodo siamo in particolare molto suscettibili rispetto alle emozioni, rispetto agli stress, rispetto a quelle che sono le informazioni che arrivano dall'esterno. C'è un esempio che ho discusso con Rodolfo, con l'ingegner Sacani, che parlerà dopo, che trovo molto molto interessante e che secondo me è veramente pungente. Per esempio, l'esempio del capo che ci scrive, che neanche il capo, l'ufficio del personale in un'azienda, che scrive al dipendente, guarda che abbiamo problemi per via del Covid, verrai licenziato. Per cui io prendo questa mail, leggo, verrò licenziato, c'è l'allegato, apro l'allegato. In realtà la mail non l'ha mandata il capo, l'allegato non è quello che penso, ma è un virus, in particolare un proian, quindi un cavallo di proia, letteralmente, che si va a inserire nel mio computer, apre delle porte, fa delle operazioni, per cui rende vulnerabile il mio computer, i miei dati, la mia persona. Quindi analizziamo questo aspetto, cerchiamo di capire, perché questo vuole essere un webinar molto pratico. Vogliamo capire, al di là della teoria psicologica, che io non vi farò 200 teorie, ma farò questo esempio pratico per farvi capire bene di cosa stiamo parlando e quale si è parlando. Che cosa succede? Quando io do un input di questo tipo, sarai licenziato, quello che succede tipicamente è che sto giocando sulle emozioni. Le emozioni sono una cosa meravigliosa, però dobbiamo capirle bene per sapere come questi sistemi le usano per manipolarci. Perché se noi lo sappiamo, abbiamo più coscienza e riusciamo a fare bene noi. Però facciamo un passino indietro, cerchiamo di capire che cosa sono le emozioni e come funzionano. Ci sono almeno 700 diverse definizioni delle emozioni. Adesso io non ve ne darò neanche una. Vi spiegherò un po' le emozioni come processo, rispetto a quello che stiamo esaminando. Quindi per quello che è interessante. L'emozione possiamo vederla come uno shortcut comportamento. Cioè una scorciatoia di comportamento. Se io vedo, mentre sono nella savana, faccio sempre la savana non a caso, perché voglio essere un po' evoluzionista su questo. Se io sono nella savana e vedo un serpente che potenzialmente mi attacca e mi uccide, io faccio sette metri di salto indietro e scappo. Poi magari scopro che quel serpente era un ramoscello e non era un serpente. Cosa è successo nel mio cervello in questi due secondi in cui ho visto il serpente, ho fatto un salto di sette metri indietro, ho guardato bene, ho visto che era un ramo secco. Analizziamolo. Allora, userò un modello semplice, molto semplice, quello è l'edu. Poi questo funziona sulla paura, perché la paura è quello che un po' ci interessa rispetto a questi attacchi. Poi ovviamente emozioni diverse corrispondono a reazioni diverse. Ma analizziamo questo aspetto, ma analizziamo questo caso della paura. Quello che succede è che io vedo questo ramoscello. Cosa succede alla vista nel mio cervello? Noi sappiamo che la vista viene elaborata nella corteccia occipitale, cioè nella parte dietro del cervello, ok? Quando un stimolo visivo per via della luce, adesso vi faccio tutta la fisica e l'organo, l'occhio, eccetera, che la raccoglie, ma la semplifico, ok? Quando noi vediamo quel ramoscello, questo viene subito codificato, dopo che dal nostro occhio al nervo ottico è arrivato al cervello, viene subito codificato dal talamo. Che cosa fa? Va a analizzare le proprietà, quelle che si chiamano le ontologie percettive. Va a analizzare le principali proprietà del ramoscello. Immaginatevelo come fanno i registi di Hollywood che hanno il focus controllo, per cui vedono i, come si chiamano, dei contornini rossi attorno agli oggetti principali, i contrasti. Vanno, è come se il nostro cervello vedesse la forma e facesse una prima elaborazione di massima in cui questa forma può essere qualunque cosa, vede la forma, il contesto e tutto, ma c'è pochissime informazioni che vengono raccolte. A quel punto partono due messaggi. Una parte va alla corteccia visiva per l'elaborazione, ma questa è lenta, lenta nel cervello vuol dire che dura 300 millisecondi, cioè non pensatevi lento nel tempine di ore o di minuti, parliamo di 300 millisecondi, cioè un terzo di secondo. Ma contemporaneamente il talamo manda il messaggio all'amigdala, che è il centro che un po' elabora le paure. Perché? Perché il talamo rileva che potrebbe essere una paura, quindi che c'è un'emozione, e manda, secondo il modello di Ledoux, il messaggio direttamente all'amigdala. All'amigdala arriva subito, come alla corteccia occipitale, per la percezione. Quindi in questi due elementi del cervello arriva immediatamente. Però cosa succede? Nonostante arrivi immediatamente, hanno tempi di elaborazione diversi, perché l'amigdala è immediata, elabora in modo veloce. Invece la corteccia occipitale è più lenta, un po' perché è più estesa, e un po' perché essendo nella parte appunto più esterna del cervello, ed essendo più estesa, ha un maggiore tempo di elaborazione. Poi le informazioni visive sono difficili. Nell'amigdala cosa succede? Questa emozione viene elaborata e viene di patto detto potenzialmente, immaginatevi l'omino dentro l'amigdala, che dice potenzialmente questo è un pericolo, perché potrebbe essere un serpente. Considerate le informazioni del talamodà, non sono quelle che sta elaborando quelle super elaborate, sono una prima forma, una prima elaborazione, ancora non c'è un'elaborazione visiva e vera e propria. Quindi cosa succede? Che la nostra amigdala elabora l'informazione sommaria e dice, caro, questa potrebbe essere una minaccia. Questa potrebbe essere una minaccia, vuol dire che potenzialmente questo aspetto, questo ramoscello, potrebbe essere un serpente. Noi non sappiamo ancora se è un ramoscello o un serpente o un'altra forma. Vediamo una forma strana che potenzialmente può essere un serpente. Quindi l'amigdala cosa fa? Attiva il corpo. E da qui il salto, il famoso salto di sette metri all'indietro. Perché ci siamo attivati? Perché abbiamo ricevuto l'impulso dall'amigdala che va subito ad attivare il nostro corpo rispetto a un potenziale pericolo che è il serpente. Dice, potendo essere un serpente, io ti attivo come se fosse un serpente. Se non lo è, lo vedremo dopo. Ma mentre stiamo facendo il viaggio all'indietro, perché stiamo saltando di sette metri per la paura del serpente, il nostro cervello sta ancora elaborando e sta elaborando l'informazione visiva. Cioè nella corteccia visiva, via via, un po' come avete presente, come nei film si vede quando l'immagine è sfumata e man mano che l'elaborazione è in corso diventa sempre più chiara e si vede il volto dell'assassino che all'inizio è un volto irriconoscibile e man mano che si va avanti si identifica il personaggio del film. Ecco, nella corteccia visiva succede la stessa cosa. Più si va avanti, più si elabora che quello che è, che stiamo vedendo, non è un serpente, ma è un bastone. Quindi cos'è successo nella corteccia visiva? Che si è elaborata l'informazione visiva. E questo avviene nei 300 millisecondi. Ma attenzione, che qua viene la cosa interessante del modello di Ledoux e di molti modelli dell'emozione, che una volta viene elaborata l'informazione dalla corteccia visiva, questa informazione viene trasferita, mandata, inviata direttamente alla amigdala. Quindi immaginate che alla amigdala gli è arrivato subito il messaggio dal talamo, che ha attivato il corpo, e ha attivato tutto. Ok? Ma contemporaneamente. E si chiama la via breve, perché arriva direttamente al talamo. Ma dal talamo è andata anche in questa corteccia occipitale, quindi nella corteccia elaborazione della percezione, la quale è elaborato, e manda il messaggio ancora alla amigdala. Per questo si chiama la via lunga nel modello di Ledoux. Questa via lunga permette di arrivare alla amigdala e poter dire che quello non è un serpente, ma è un bastoncino. Per cui cosa succede? Che l'amigdala rielabora il segnale emotigeno che ce l'ha dato la paura, ok? E dice è solo un bastone, non è un serpente, quindi non deve avere paura. Quindi dopo aver avuto una paura enorme, eccetera, abbiamo fatto sette metri all'indietro, ci accorgiamo che in realtà è un bastone. Ecco, questo modello, Ledoux l'ha elaborato in tempi moderni. E là, diciamo che sono tutti questi modelli che sono stati elaborati negli ultimi 50 anni. E Ledoux è anche stato molto bravo perché l'ha verificato anche usando tecniche di risonanza magnetica, PET, altre neuroscan, quindi usando le neuroscienze. Però questa è un'intenzione, per giustizia di scientifica, diciamo, dobbiamo dirla, che già aveva avuto addirittura Darwin, quindi parliamo di molto prima, e quando raccontava che di fronte alla vista di un serpente, se tu metti la faccia in una teca di vetro dove dentro c'è un serpente, quando il serpente ti si avvicina alla faccia, tu anche se sai che c'è la teca di vetro che non ti può fare niente, che non è per niente un pericolo perché non ti può assalire, di impatto, subito, la prima cosa che tu fai è portare la faccia indietro. Cioè fai uno scatto perché ti spaventi. E l'Ira ti fa, scusate, la paura, la paura, l'Ira ha altri effetti, la paura ti fa fare il balzo indietro in automatico e poi ti rendi conto ma che sto facendo? C'è la teca di vetro non è che mi può fare mai male. Eppure Darwin diceva che provava più volte a mettersi davanti alla teca di vetro e ogni volta non riusciva a contenere questa sua paura quando il serpente gli si avvicinava repentinamente. Adesso, questo è un discorso sicuramente carino, affascinante, però perché ne stiamo parlando in questo webinar e come questo si lega al discorso che farà anche Rodolfo successivamente. Bene, questo si lega perché questi processi sono gli stessi processi che usano gli hacker sociali e che usano l'human hacking appunto, la social engineering, per generare delle reazioni automatiche non controllabili prima che io possa riflettere su un processo. Ovvero, quando io leggo che mi stanno licenziando, la paura mi assale. Loro lavorano sull'immediatezza. Su questa immediatezza loro generano una risposta. Quando io leggo questa cosa e dico ci sono crisi, c'è una crisi, oh mio Dio, la prima cosa che faccio è dico fammi aprire l'allegato. Mi hanno fregato. Mi hanno fregato perché hanno giocato sulla paura ancestrale, hanno giocato sull'immediatezza, hanno giocato su il fatto che io ho sentito questa paura immediata e prima ancora di ragionare, chiedermi se fosse vero quel messaggio, ho già reagito, ho già avuto un'azione. quindi capite benissimo che questo aspetto ha un'influenza enorme sulle politiche che usano gli hacker per appunto dominare il nostro, come dire, le nostre azioni e farci fare certe azioni piuttosto che altro. Ma ancora di più, c'è ancora tanto che può dire la psicologia. Qua io potrei parlare per 16 ore ma mi pare che ho ancora 5 minuti quindi cercherò di condensare un po' il concetto. L'altra cosa che nella psicologia fa tanto e quello su cui vorrei ora soffermarmi questi 5 minuti al di là delle emozioni che resta sempre un primo smallness è proprio il contesto. Il contesto è uno degli elementi principali che crea e discluge tutto. Ovvero è usando il contesto che io posso giocare bene sulle emozioni e influenzare gli altri e usando il contesto che il social engineering e il human hacking avviene e prova efficacia in noi povere vittime metto anche se ho imparato a stare attenti però è chiaro che l'essere umano è vulnerabile anche per questo ci servono delle tecnologie che ci aiutino e che non solo l'essere umano può andare a elaborare qual è il contesto nell'esempio della mail del licenziamento me l'avessero fatta tre anni fa probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa che è fatta oggi perché perché oggi viviamo una situazione che è un contesto sociale storico e culturale che è diverso da quello che c'era per me qual è questa situazione ovviamente faccio riferimento all'era che viviamo rispetto al covid-19 alla pandemia che ci ha colto un po' tutti impreparati è chiaro che se io vengo bombardato tutti i giorni sul telegiornale su notizie rispetto alla crisi economica alla pandemia ai morti da pandemia è chiaro che mi attiverò rispetto a questi temi ed è chiarissimo che questi temi avranno un'influenza su quello che è il mio comportamento è chiaro che in una situazione come quella di oggi dove il comportamento umano in un contesto così delimitato è anche controllabile gli attacchi diventano più frequenti e più pericolosi oggi che siamo sotto pandemia e che ci sono crisi economiche risapute e che tutti abbiamo il timore che le aziende dove stiamo abbiano crisi o abbiano dei problemi è chiaro che in questo contesto la paura di essere licenziato che la mia azienda possa entrare in crisi mi assale è chiaro che in un contesto come questo una mail di dell'ufficio risorse del personale che mi arriva con l'indirizzo mail l'ufficio delle risorse del personale della mia azienda che apro già con a priori il timore che ho avuto per giorni mesi o per tutto quest'anno che anche la mia azienda fosse in crisi vado ad aprire questa mail mi trovo dentro che è causa problematiche dell'azienda economica e così via se mi si prospetta un licenziamento come l'allegato ma cavolo la prima cosa che faccio apro l'allegato perché sono terrorizzato ma sono terrorizzato e l'emozione ha funzionato perché l'emozione ha trovato terreno fertile in un contesto che è quel contesto che viviamo oggi questo chi fa social engineering chi fa human hacking chi fa phishing chi fa queste operazioni di attacco lo sa molto bene lo sa tristemente molto bene l'ha studiato bene sa bene che la paura funziona se è contestualizzata l'emozione ha effetto se riconosce un contesto ricordatevi che qualunque comportamento umano ci sono tre fattori che lo mettono a modello i tre fattori sono l'ambiente la persona quindi le persone gli agenti si dice in generale quindi chi agisce e le regole allora le regole sono quelle che in questo caso sono le emozioni gli agenti siamo noi e l'identificazione di questi hacker da parte del fatto che può essere in questo caso e questo esempio che ho trattato adesso nel risorso umane e l'ambiente sono appunto quel framework culturale e contestuale nel quale operiamo tutti i giorni quindi in tal senso quello che succede usando questo contesto con le regole che conosciamo dell'emozione del comportamento umano e usando questo queste conoscenze rispetto a la minaccia specifica io agisco affinché la persona che riceve quelle mail possa aprire l'allegato e infettarvi il compito ora come agiamo rispetto a questa minaccia e con questo abbiamo due vie anche qua come le due rievochiamo la prima via che possiamo adoperare è quella psicologica umana cioè intervenire sull'essere umano affinché la consapevolezza delle proprie emozioni e la conoscenza dei processi che stanno dietro queste cose possa aiutare a essere meno impulsivi e a reagire in modo ordinato un po' come chiediamo di non attaccare le password con un post-it sullo schermo perché se no il primo che passa è della password allora un minimo di attenzione verso l'atteggiamento e il comportamento umano il secondo aspetto invece su cui intervenire è quello digitale elettronico ingegneristico su quale però lascio la parola direi assolutamente all'altro nostro ospite perché ovviamente la mia conoscenza sull'argomento c'è però io mi occupo più delle questioni legate all'essere umano che non a quelle legate al diciamo agli attacchi di ingegneria quindi con questo direi che lascerei ampio spazio a poi quali siano i sistemi che possiamo usare a livello ingegneristico per l'azione del rispetto a questi attacchi umani ringrazio per l'invito ovviamente sia l'azienda che gli ascoltatori grazie mille bene direi che allora possiamo procedere con la parte dedicata a Rodolfo quindi andare in attacchi nel traffico a vedere ciò che Pietro ci ha gentilmente trasmesso a livello teorico grazie mille Pietro andiamo adesso un pochino più andiamo a calare questo discorso teorico nel pratico particolare nella posta elettronica nella sicurezza della posta elettronica mi confermi che mi senti Pietro adesso ti sento avevo smollato le cuffie per cui non sentivo più ok perfetto quindi allora andiamo a calare questo concetto del del fisico di umani hacking nel contesto della posta elettronica allora gli elementi io faccio adesso con un po' gli esempi partendo dal dal caso del caso covid 19 che è stato un evento che ha scatenato campagne di phishing su questo tema in abbondanza proprio approfittando di quegli elementi di cui parlava Pietro la vicenda covid 19 soprattutto nelle fasi iniziali ma anche poi nella sua evoluzione ha scatenato un'alta emotività in generale delle persone apprezzione paura e preoccupazione elementi che come detto Pietro sono alla base degli attacchi social incidenti a sfruttare la reazione impulsiva all'emozione per abbassare il livello di attenzione e le difese e le difese razionali abbiamo visto durante questo anno di pandemia abbiamo visto un susseguirsi di informazioni una grande fame di informazioni da parte delle persone che cercano di capire sempre di più che cosa aspettarsi con informazioni di tipo medico che erano in continua evoluzione poi sono susseguirsi di provvedimenti normativi di raccomandazioni di restrizioni allentamenti delle restrizioni interpretazioni delle restrizioni quindi anche qui una continua ricerca di informazioni legate a questi argomenti a tutto questo si è associato un cambiamento di modalità di lavoro un cambiamento di abitudini in tutti i sensi questo ha fatto sì che ci fosse un'attenzione del pubblico estremamente alta su tutti gli argomenti legati al Covid e una carica emotiva anche altrettanto alta due elementi che erano assolutamente ottimali per chi voleva portare a buon fine attacchi di social e quindi le attacchi di phishing si sono rapidamente spostate su questo tema e come vediamo continuamente quando c'è una tattica di phishing che si rivela efficace viene rapidamente copiata da tutti gli operatori e quindi c'è stata proprio una corsa a sfruttare i vari aspetti di questa di questo di questo elemento iniziamo da quello che è il traffico di posta elettronica legittimo a tema con il 19 possiamo vedere qui l'andamento delle comunicazioni giorno per giorno a tema con il 19 questo risultato che è stato ricavato con delle sonde basate su termini specifici legati alla pandemia e vediamo che c'è un un aumento all'inizio dell'anno un aumento progressivo che poi si stabilizza che viene in prossimità del primo lockdown con un leggeo capo segue leggeo capo poi c'è un picco enorme successivo che corrisponde più o meno alle prime riaperture quindi questo è il periodo in cui arrivano provvedimenti normativi sulle restrizioni su cosa si può fare o cosa non si può fare su quando viene oltre a certificare sulle aziende che aprono e aziende che non aprono come possono aprire dispositivi di protezione e via dicendo poi c'è un progressivo calore e una stabilizzazione questo è l'andamento delle comunicazioni illegittime andiamo invece ad analizzare quelle non legittime quindi tutto lo spam il phishing eccetera vediamo che la curva è completamente diversa c'è stata una rapida adozione dell'argomento all'inizio una roba esponenziale di radio diciamo di adozione di questo argomento e poi un adozione molto più costante nettamente più costante questo ci dice che l'argomento funzionava è stato adottato rapidamente dagli attori che si occupano di questo di social engineering e poi l'adozione è andata scevando solo quando il livello di attenzione generale è andato più in chiaro avanti quindi vediamo due pattern completamente diversi se li riconfrontiamo mi senti ancora ok si si è solo sulle slide quindi provo a condividere quindi torniamo vediamo la differenza enorme tra questi due grafici abbiamo il primo questo qui che è quello legato al trafico di posta legittimo a tema come 19 che ha un andamento estremamente discontinuo e legato ad eventi che possiamo ben identificare nella storia di questa pandemia e invece un andamento molto più costante delle comunicazioni nonemole quindi un'adozione rapidissima del tema e uno sfruttare a capello il tema fino a che è possibile fino a che le attenzioni ne comincia a scivare quali sono le caratteristiche tecniche di una campagna di phishing efficace allora prima di tutto spacciarsi per una fontatorevole è chiaro che se chi legge la comunicazione capisce che chi scrive non è chi dice di essere tutto tutto svanisce quindi spacciarsi per una fontatorevole catturare l'attenzione scatenare le motività questo per girare una razionalità far sì che la persona compia in modo impulsivo un'azione che la cambia questi sono gli elementi principali adesso andiamo a vedere alcuni esempi pratici di come questi elementi sono stati declinati al tema del corso dello scorso anno allora il primo esempio è quello a cui accennavo prima Pietro questo è l'unico esempio in inglese che abbiamo e l'ho inserito perché è stato inviato a molti destinatari italiani di aziende multinazionali ed è la mail di licenziamento di cui parlavo prima quindi ci dispiace a causa dell'epidemia 2019 abbiamo altra scelta che terminare immediatamente il nostro apporto di lavori in allegato trovi questo è proprio un esempio più evidente di come si vada ad approfittare in una condizione emotiva e come si induca la persona a zerare veramente la nazionalità e a dire di un pulso la persona che riceve la mail e che mail che si spaccia tra una ponte adorevole eccetera quindi tutti gli elementi di cui abbiamo parlato la persona che si ritrova ad aprire questa mail quindi se è veramente convinto che venga dal reparto di gestione umane a quel punto è indotto ad aprire il mio momento l'allegato l'allegato in questo caso era un finto foglio elettronico che richiedeva le proprie credenziali per essere aperto in realtà si tratta appunto di credenziali di credenziali che hanno poi catturate e utilizzate dagli attaccanti quindi questo era il primo esempio abbiamo visto qui invece scendiamo completamente di livello di classe di attacchi qui siamo proprio a livello più basso di attacchi quindi di più bassa qualità bassa efficacia ma che vengono spalmati su una patente destinataria enorme quindi comunque fanno il loro le classiche estrazioni premi vincite tutte queste queste classi di fischi a bassissima qualità anch'essa è stata declinata a tema 2019 quindi ritroviamo tutti gli elementi classi di queste tipologie di attacchi però con la declinazione a tema 2019 quindi anche qui vista l'efficacia del tema perché non non si parla poi abbiamo tutta una serie di attacchi che punta al concetto di autorevolenza quindi vedete questi log lo dell'OMS grandissimo all'inizio della media questa cosa si ripete molto frequentemente questi log messi lì in primo piano in bella vista per dare autorevolezza al messaggio quindi qui abbiamo un finto messaggio dell'OMS che sfrutta appunto il concetto di autorevolenza cattura l'attenzione perché era un momento in cui l'OMS tutti aspettavano di sapere che cosa dicevano l'OMS su questo virus che cosa si vengono a sapere di giorno in giorno e e quindi anche il concetto di immunità la preoccupazione eccetera per il virus per la pandemia per le conseguenze del nuovo in modo simile campagna di phishing del ministero dell'economia e delle finanze che qui vede che il logo in primo piano è in vista e qui andiamo a sfruttare la serie di provvedimenti legati alle riperture delle attività produttive quindi in un momento in cui l'attenzione è focalizzata su quello si va a sfruttare quella che qui sfruttava il concetto di autorevolenza e il concetto di autorevolenza e il concetto di autorevolenza proseguendo siamo arrivati poi agli immuni arriva l'appo immuni l'attenzione per un premio dove io ho del tutto concentrato sull'appo immuni arrivano le campagne di phishing sull'appo immuni questo è un sito di phishing clone del google play cronato molto bene che fa scaricare un malware al posto dell'appo quindi anche qui il concetto di autorevolenza cattura l'attenzione su un elemento che in quel momento era al centro dell'attenzione passiamo poi al cashback come vediamo l'argomento più efficace e più di interesse al momento viene regolarmente sfruttato per campagne di phishing passiamo al cashback di stato e abbiamo le campagne di phishing a tema cashback di stato anche qui si sfrutta l'attenzione sull'argomento si sfrutta la torrevolenza si sfrutta l'emotività perché poi quando ci sono dei soldi in ballo si scatenano altre classi di emozioni cashback speed tutti che si si dotano di speed per organizzare il cashback iniziano ad arrivare tutta una serie di campagne anche lì a tema speed per quanto riguarda la credibilità ci sono l'evoluzione è quella di trovare il sistema più efficace per sembrare credibile agli occhi in pubblico che incomincia ad abituarsi al concetto di phishing incomincia a capire che scusa ho un'altra la comunità ho un po' che non vedo un momento di slide dobbiamo compilire ma adesso vedo interpassword però prima vedevo giusto la pagina allora ecco qui abbiamo una classica campagna di phishing che colonna il sito Microsoft lo scopo per rubare i credenziali che viene arricchita adesso se vedete apparsa un Google Recouch sopra ecco quella di utilizzare Google Recouch è stata una tecnica piuttosto efficace perché al tempo stesso nasconde la pagina di phishing ai crawler di sicurezza le varie sandbox i servizi di sicurezza i crawler di Google che vanno a classificare i siti e vanno a riconoscere i siti di phishing il Recouch è fatto apposta per far passare solo gli umani e non far passare i bot quindi lo strumento assolutamente efficace è un'ottima vista nasconde le pagine di phishing ai crawler e anche ai sistemi di sicurezza però c'è anche una doppia efficacia perché dà più credibilità alla pagina di phishing la persona che clicca sul link nella mail la terra su una pagina protetta da Google Recouch in qualche modo gli sembra più legittima quella pagina e quindi anche le pagine di phishing hanno iniziato a usare Google Recouch per questo doppio scopo poi abbiamo una serie di esempi che sono questi gli classici qui se usciamo dal tema Covid siamo nelle classiche campagne di phishing che vediamo allora la prima in alto è interessante perché alcuni sistemi di mail security hanno iniziato ad inserire questi bannerini questa mail arriva da un trusted center per identificare le mail interne le mail fidate ecco questo è un esempio proprio di una la chiamerei una pessima pratica di user experience cioè andare ad inserire un banner un messaggio che ti dice fidati di questo messaggio perché ho verificato io che è buono immediatamente il chi fa phishing inizia a falsificare quel bannerino per far credere al destinatario che è quello che è stato legittimo quindi abbassare la soglia la soglia ecco questi messaggi queste notifiche che sarebbero usate solo per attirare un'attenzione su qualcosa di potenzialmente pericoloso non per tranquillizzare l'utente è proprio un uso sbagliato di questo tipo di notifiche che sono da parte dei sistemi di mail security e vediamo come viene abusato poi abbiamo altri esempi agenzie delle entrate funziona sempre campagne di phishing a termine di mail che qui vedete loghi belli, grandi, sparati proprio per il concetto di autorevolezza docu-sign stesso concetto che si spaccia con il documento docu-sign quindi una cosa formale legittima almeno l'impressione che si vuole dare e poi il ministero del lavoro questo è un esempio del ministero del lavoro ma insomma abbiamo innumerevoli esempi di documenti che si spacciano per vari organismi pubblici di ministeri passiamo adesso come ultimo step al concetto di phishing mirato perché qui entriamo in un ambito molto più delicato nel senso che già il phishing in sé fa parte di quella categoria di attacchi di mail che sono più difficili da intercettare sono tenuti a presentare la punta di inizia tecnico per tutta una serie di motivi tra i quali c'è l'analisi semantica del contenuto del messaggio aiuta poco perché essendo dei messaggi difficili ricalcano i messaggi legittimi come semantica quindi l'analisi semantica non rileva anomalie particolari questi sono attacchi invece mirati che sono più sub e più pericolosi proprio perché la vittima viene scelta e l'attacco non viene lanciato a ventaglio su un parco di ritme molto ampio ma viene proprio mirato di solito inizia con una cosa come quella che vede di l'altra sinistra ciao Stefano se l'ufficio quella è la sonda iniziale che viene il mittente si spaccia per un C-level per il liceo per un responsabile aziendale scrive a qualcuno magari in amministrazione e manda una mail semplice così serve solo per vedere se la mail ha una destinazione se i sistemi di messi teori che non la intercettano e se la persona che la riceve non si accorge che si tratta di un tentativo di personalizzazione nel momento in cui la persona dice la mail che risponde dice si dimmi l'attaccante sa che può proseguire con il suo attacco difficile questo questo primo il mail di approccio è comunissimo e viene anche automatizzato adesso quindi c'è la prima fase in molte di queste tanti c'è la prima fase quindi lo spirito di indirizzare con i nomi desiderio che saranno in intenti di queste mail di phishing le persone all'interno dell'azienda che devono essere bersagliate da queste tante mail vengono mandate in modo automatizzato queste prime mail di approccio solo le ritme che rispondono poi passeranno l'incarico ad un operatore che porterà avanti l'attacco di phishing e queste tante di phishing sono caratterizzate da un fatto che appunto ci si spaccia che non si vede di solito lo si fa con delle conoscenze interne dell'azienda quindi magari la fine arriva nel momento in cui il liceo è fuori dall'azienda e quindi la cosa risulta ancora più credibile o è con un partner e sta facendo un accordo magari con un partner e quindi la mail di phishing fa riferimento a questa condizione quindi queste mail sono particolarmente suddure perché perché appunto la sematica è più simile possibile con le mail legittime perché c'è il concetto di autorevolezza cioè la mail si spaccia per il tuo si leve e quindi le difese della persona si abbassano di solito tendono a indurre un senso di urgenza vediamo passare niente tipo sono con il nostro studio legale abbiamo una scadenza oggi dobbiamo subito fare il bonitico eccetera eccetera quindi provvedi immediatamente a boniticare su questo email eccetera quindi questi attacchi qui sono attacchi che sono particolarmente pericolosi perché sono puntavano specificamente ad una persona e ad una non in generale se andiamo a analizzare l'andamento dello spam nel corso del 2020 vediamo questo grafico che ci dice poco e ci dice tanto questi questi andamenti oscillanti possono essere condotti se vogliamo andare a studiare che oscillano ma le variabili sono tantissime e alla fine ci interessa poco perché oscillano così tanto quello che è interessante vedere è quanto piccola sia la porzione di me legittime perché l'astra grande quantità di traffico di posta che raggiunge i nostri sistemi è il traffico non legittimo è solo una percentuale minoritaria è quello di traffico legittimo quindi su questa sorta di mare interpesta con tutte le sue onde galleggia il traffico di posta legittimo questo ci fa cambiare proprio qual è la mole il traffico legittimo e come nella linea di contenia tra legittimo e legittimo ci sia qualcosa che ci sono le cose che sono più difficili da portare che rischiano di passare dal sistema di sicurezza rischiano di arrivare all'utente finale e per quello appunto questa consapevolezza sull'utrice diventa importante allora scendendo un pochino più ma poco nel tempo perché non vogliamo parlare di queste tecniche ma restare sul tema del web gli attacchi principalmente hanno due canali sono l'allegato alla medica che porta dentro Troia un'avanzo a quello che è e il link che punta invece a un sito che sarà un sito di phishing o sarà un sito da cui poi si scarica poi un'avanzo questi sono i tuoi canali dal punto di vista dal nostro punto di vista che scopriamo nei mesi giuridi diciamo la parte degli allegati è la parte più facile nel senso che c'è un file da realizzare per quanto ci siano varianti se uno sa fare bene il lavoro di analisi degli allegati l'allegato non comporta grossissimi problemi si viene intercettato in modo il link è più difficile perché la mela è più snella piccola di solito queste miele arriva da indirizzi miei legittimi da indirizzi miei compromessi quindi arrivano a caselle di G Suite di Opa 65 account che sono stati compromessi account legittimi fino al giorno prima erano usati per scopo 20 quindi la mail da punto di vista tecnico non ha grossi elementi per essere classificata come pericolosa se la mail contiene un link e poco più c'è anche poca materia per l'analisi semantica per l'analisi del contenuto della mail ecco queste sono le mail in cui qualche mail rischia di passare controlli di sicurezza anche se non è legittimo esiste un'estrema rete di protezione a valle che è l'analisi al momento del click sul link della mail quindi il sistema di mail security nel momento in cui fa passare questa mail riscrive il link in modo che quando l'utente ci clicca atterri prima su una sandbox in cloud ti analizza in quel momento il comportamento della pagina web prima di decidere se mandarci l'utente o se il box ecco questo è l'andamento nel corso dell'anno scorso del 2020 di quanti sono questi click fatti sulle mail che sono stati intercettati da questa estrema rete di protezione del simbox se guardate la scala sinistra la percentuale è molto piccola perché non arriviamo all'uno per cento siamo sempre sotto l'uno per cento parliamo dunque di milioni e milioni di click perché rapportati al numero di link che passano da ogni giorno via mail e il numero di click che vengono fatti su questi link questi sono milioni e milioni di click ciascuno dei quali avrebbe potuto essere una contropassione una azienda di ransomware un attacco di fischi ecco questa cosa qui ci dice quanto sia importante questa estrema rete di protezione dell'analisi dei click al loro perché è proprio quello il canale più efficace questo ultimo grafico è la distribuzione geografica dei siti che ospitano pagine di fischi relativa alle campagne di fischi inviate a utenti italiani non ci dice moltissimo perché la grande maggioranza di queste pagine di fischi sono ospitate su siti compromessi quindi siti magari con CMS come World Questium eccetera che sono stati compromessi l'attaccante ci ha depositato all'interno delle pagine di fischi e ha inviato delle campagne mail che puntano a questi siti quindi alla fine la distribuzione geografica di questi siti è più o meno una distribuzione geografica di siti che vengono compromessi consigli pratici consigli pratici per chi riceve le vendite allora innanzitutto non fidarsi dell'intente il problema della pasta elettronica è che quello che viene indicato nel campo from è estremamente in modo estremamente facile e falsificabile quindi mai fidarsi di quello che si legge nel campo from quello che c'è titolo il campo from è un campo informativo può essere falsificato sappiamo che può essere falsificato non prendiamo per vero essere molto scettici nei confronti dei messaggi che più catturano l'attenzione perché lo scopo delle campagne di fishing è proprio quello di catturare l'attenzione fin dal subject perché la campagna di fishing proprio perché conta su una reazione emotiva funziona se viene colta è mangiata se la media è lasciata lì e l'utente aspetta ad aprirla ci torna dopo a mente fresca è molto più difficile che ci caschi quindi lo scopo di questi messaggi è catturare l'attenzione prima cosa catturare l'attenzione e instillare un senso di urgenza quindi ti catturo l'attenzione ti induco ad aprire la mail nel contenuto della mail cerco di indurti in modo urgente a compiere l'azione di aprire l'allegato con il costo ecco le mail con queste caratteristiche dobbiamo essere sciendici fare una pausa se la mail scatena la nostra emotività fermarsi un attimo e essere un po' potenti da questo punto di vista mai comunicare dati riservati come le prevenziali di accesso si riserva una verifica accurata quindi se la mail mi chiede le prevenziali se apre la legata mi chiede le prevenziali o se clicco su link per prendere prevenziali fermarsi anche lì perché bisogna fare ma quindi che è estremamente accurata se ne assicuro al 100% che quel sito in cui siamo è legittimo e giusto dare le prevenziali non è più collegati sulle mail sospette in particolare se non abbiamo un sistema di protezione di nostre telefonate e teniamo presente che anche i PDF e anche i documenti di Office possono essere pericolosi sono dei formati che ormai possono fare tutto quello che può fare un esiglio né più né meno quindi aprire uno di questi file può corrispondere ad aprire un eseguire e eseguire cose su porto non attivare il macro quando apre un documento Office il documento stesso dice per vedere questa cosa attiva le macro non bisogna attivare gli attaccanti hanno bisogno che tu attivi le macro per portare a coppia le loro attacche ti chiedono se ti chiedono se ti chiedi il primo del macro abbiamo segnato le prese l'ultimo elemento che non ho aggiunto qui è che bisogna dotarsi di una protezione per quanto seguire questi consigli possa ridurre notevolmente il nostro rischio c'è tutta una serie di classi di attacco che possono essere prevenute solo con un sistema di protezione adeguato che faccia delle analisi tecniche che la persona non può fare fisicamente faccio presente che siamo tutti soggetti a cadere in attacchi lo siamo tutti e anzi quanto più pensiamo di essere competenti e invulnerabili a questo tipo di attacchi tanto più stiamo abbassando le nostre libri al contrario ci rendiamo vulnerabili qualche tempo fa a uno dei nostri eventi dedicati alla sicurezza informatica in particolare alla sicurezza della nostra elettronica a cui abbiamo invitato partner che si occupano di questo prima dell'evento abbiamo organizzato una campagna difficile abbiamo mandato una finta mail di LinkedIn per vedere quanti dei partecipanti a questo a questo evento cascavano cascavano nel tranello abbiamo avuto una visione del 60% cioè il 60% delle persone che ha ricevuto questa campagna c'è cascato a cliccare su e questo ci dice che anche le persone con un alto livello di consapevolezza e di competenza ci possono accadere quindi non facciamo l'errore di pensare che a loro non possa capitare perché quello è proprio quello che ci fa abbassare l'interno che ci avvicina ancora di più al cascarci allora io interrompo la condivisione ho finito la mia presentazione quindi direi che possiamo aprire alle domande tra l'altro vedo che ci ne sia una allora qui tra le domande e le risposte vi chiedono se è possibile avere la registrazione direi che ci sarà sicuramente la registrazione se volete fare domande usate la chat usate la chat e risponderemo a tutte le domande sia quelle di ordine tecnico sia quelle di 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 ordine più l'umano sempre allora vediamo un po' sto guardando la chat vediamo se c'è qualcosa nel frattempo se volete faccio un po di considerazioni io allora è interessantissimo secondo me il fatto è come dire negli esempi che avete mostrato si giocava veramente sempre sulle emozioni adesso io ho fatto l'esempio della paura perché era legato al licenziamento però ho visto in tutti i vostri i vostri esempi c'erano sempre un'emozione primaria legata cioè paura ira quindi la rabbia tristezza quindi c'è un'altra emozione primaria e gioia per esempio dice uno come 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 sfrutto la gioia per fare questo è l'esempio delle hai vinto 60 mila dollari sono tutto felice non ci dobbiamo immaginare che anche quello non funzioni nello stesso modo della paura perché anche quello usa le stesse tecniche anche in quel caso io sto generando una reazione immediata cioè vedo la gioia ho vinto 60 mila dollari certo poi oramai siamo come dire attrezzati emotivamente su questo per cui sappiamo che non non ricevi via mail la notizia vinto 60 mila dollari e non funziona proprio così quindi su questo siamo ben collaudati però è anche vero che spesso eh quello che succede e che vengono usate delle emozioni primarie come anche la gioia quindi le notizie positive e potrebbe essere nel caso che facciamo prima eh hai ricevuto un aumento siamo il tuo ufficio personale hai un aumento adesso non voglio dare troppo a troppe informazioni a quelli che creano questi attacchi ci mancherebbe però insomma c'è è anche vero che eh per conoscere e per saper affrontare queste cose bisogna sapere con che cosa lavoriamo e le emozioni primarie sono uno di questi aspetti allora eh qualcuno chiedeva se la scala ideografica è la stessa no non è la stessa quelli sono dei trend comunque indicativamente ehm nel nei periodi di picco il dieci per cento del traffico di posta legittimo riguardava argomenti legali del covid quindi quando nel primo dei grafici c'è il picco di comunicazioni covid lì siamo intorno al dieci per cento del totale delle comunicazioni che abbiamo posto e allora per come chiede se organizziamo campagne di trishing eh l'ibretta sta sviluppando un servizio per realizzare campagne di trishing quindi eh verrà lanciato probabilmente nel corso di quest'anno e sarà un servizio attraverso il quale si potrà eh scegliere dei template di campagne di trishing che noi manterremo aggiornati con quelle che sono le campagne di trishing in circolazione e inviarle ai propri dipendenti monitorando monitorando l'effetto allora eh l'altra domanda dice quando ripresa disarma gli allegati rimuove i link perché invece non li sostituisci il link e appuntano la sandbox allora i link all'interno delle mail vengono sostituiti e appuntano la sandbox i link all'interno dei pdf vengono solo disarmati ci sono eh motivazioni tecniche per questo la riscrittura eh il disarma eh dei link all'interno di pdf è estremamente poco invasivo mentre la riscrittura dei link è molto invasiva e i pdf non è informato proprio standardizzati per cui diciamo la scelta è quella di disarmare link e non non restriverli per evitare di creare problemi di compatibilità eh vediamo se c'è altre domande verificare l'indirizzo reale di provenienza eh come fa l'utente a verificare l'indirizzo reale di provenienza eh è estremamente estremamente difficile per un utente normale le mail hanno eh due indirizzi di provenienza la parte envelope e la parte leader l'analogia è quella della busta della busta tradizionale si scrive un indirizzo all'esterno della busta è quello che è usato dal postino per consegnare all'indirizzo giusto quella quella lettera all'interno quando apro la lettera all'interno ci può essere scritto un altro destinatario diverso da quello che è scritto sulla busta con la posta elettronica è già potente della stessa c'è una parte ente che viene usata per la consegna che serve dai sistemi di posta elettronica per consegnare la mente la vengono sulla busta ma quella che accade di posta a busta non è quella è quella che c'è scritto all'interno l'e-mail è nata in un periodo in cui eh il concetto era collaborativo nessuno pensava agli abusi eccetera quindi eh essenzialmente l'utente normale che non sa non è smalizzato in tutti i stradecchi semplicemente è meglio che non si fida di quello che c'è scritto nel campo a trovo allora e quindi passate dal controllo eccetera eccetera eh allora la mia questione può essere eh può essere diventa molto complessa perché se il link punta ad un google drive legittimo che è stato compromesso ehm il controllo può non essere può non essere fatto dalla dalla website soprattutto se richiede un'identificazione quindi se c'è uno step di applicazione intermedia con l'identificazione di pensare per accedere a questi contenuti eh la website ovviamente non può fare non può fare il controllo allora per il momento non vedo altre domande non vedo altre domande se qualcuno avesse altre domande si può affrontare a farle altrimenti per quanto mi riguarda ringrazio ringrazio a tutti per la partecipazione assolutamente ringraziamo anche Pietro per avere aderito aderito e c'è un'altra domanda che chiede i servizi di apporciamento delle urla come bitly eccetera il servizio di apporciamento delle urla il nostro gateway va a risolvere la urla originale uno dei trucchi più semplici e più comuni è quello di nascondere la urla reale dietro uno shopper o dietro più shopper uno shopper che fornisce la urla un altro shopper e via così il gateway risolve tutte queste urle va a pescare la urla originale alla fine della catena qualcuno dice che i PDF firmati se disarmati si compromette la firma ovviamente sì qualunque documento firmato se viene modificato la firma non è più valida questo vale anche per le mail SMIM le mail SMIM se si fanno delle operazioni di modifica con il disarmolo o la rispettura del link la firma non sarà più valida ma questo è normale ed è atteso l'alternativa sarebbe non toccare i documenti firmati e dopo domani abbiamo tutti gli attacchi di malware con la mail firmata e documenti firmati perché i sistemi di mail security non li toccano i sistemi di mail security devono poterli toccare devono poterli modificare quindi il fatto di validare la firma fa parte della sicurezza qualcuno chiede se si possono avere le slide direi che non c'è un problema se le facciamo avere insieme alla registrazione sulle nuove minacce con siti certificati SSL attendibili il certificato SSL attendibile non significa nulla ormai tutti i siti hanno un certificato SSL vero e il fatto che il sito abbia un certificato SSL vero non significa assolutamente nulla il vecchio consiglio di controllare il lucchetto è un consiglio sbagliato il fatto che ci sia il lucchetto ovvero che ci sia un certificato SSL valido non significa che quello non sia un sito malevole non significa nulla quindi il fatto che ci sia un certificato SSL attendibile non viene considerato da nessun sistema di security come qualcosa di positivo è semplicemente normale dovrebbero essere così tutti i siti avete qualche suggerimento relativamente ai PDF firmati i PDF firmati se non contengono link non vengono disarmati passano liberamente se c'è necessità di i nostri sistemi qualunque file consegnano modificato mantengono la versione originale a bordo quindi la versione originale è sempre recuperabile quindi il resident che riceve un PDF firmato con un link inscrito e quindi la firma reclupata può sempre recuperare la versione originale firmata questo non è un problema comunque si può usare i sistemi di condivisione i sistemi di condivisione file aziendali e tornare un cliente passato dai passato non solo si possono impostare delle watchlist puntuali per cui io posso dire con il determinato amittente i PDF firmati del determinato amittente non vengono toccati il white listing puntuale è sempre uno strumento disponibile ma usato ovviamente con passi umani per mantenere la superficie d'attacco piccola se iniziamo a dire allargare ma poi la magliella la superficie d'attacco è uscita va bene direi che abbiamo terminato la tua disposizione ringraziamo tutti quanti per la partecipazione vi manderemo a brevissimo all'inizio della prossima settimana il video, la registrazione e le slide sicuramente avremo modo in futuro di coinvolgere nuovamente dietro in altri progetti abbiamo un po' di cose che bollono in peligro quindi sicuramente ci rivedrete su questo schermo insieme bene, questo fa molto piacere anche a me assolutamente lascio anche il mio contatto perché vabbè basta che mi cercate su google come Pietro Cipresso provate indirizzo mail e tutto comunque dietro.cipresso.gmail.com è quello generale e poi ho cipresso.thewaynow.it è quello di The Way perfetto allora vi ringraziamo ancora e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a voi a presto è stato un piacere grazie grazie a tutti grazie a tutti